Sono le 17 e 25, 5 e mezza del 26, sabato settembre, e quanti chilometri abbiamo? 22.109 chilometri, siamo in direzione Venezia, dopodiché da lì direzione Opfoli, Let's go Finalmente vedo delle scritte italiane Ci siamo quasi, è stata abbastanza dura, ci siamo fermati a dormire dietro qui all'Oper Bands E un altro ho scoperto che c'è un'altra piccola scantetta qua sotto che si apre e esce tutto il calore E' una macchina piena di surprises Ho attaccato anche questa nuova luce che era della bici Molto forte E una luce serve sempre E ovviamente lo specchio, ottimo Bisogna fare attenzione a non lasciarlo acceso E se lo lasci è acceso si consuma la batteria E difatti dopo un po' che era acceso mi ha consumato la batteria Ho dovuto prendere i cavi Attaccato A un'altra macchina Si fa così Il rosso con rosso Il nero Con un altro pezzo di ferro Cosa che prima io mettiamo sempre il nero con il nero Rosso con rosso Nero con nero Invece si mette il rosso con rosso Con il nero Dà la macchina opposta Con un pezzo di ferro In questo punto Praticamente ho anche scoperto che Lasciamo stare la funzionalità qui del gas E dell'LPG E le lucine sono sempre accese E a un certo punto Si accende solamente questa qua rossa Mentre rimane accesa questa qua verdina Però devo dire che si fanno 550 chilometri buoni Con il pieno di 75 litri Forse anche 600 Quindi Va bene Appenditi A mulher Il делать Co rec alma La nuova La nuova La nuova Grazie a tutti. 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 Puglia. Domenico Modugno. Volare. Volare. Nel blu. Puglia. 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 Grazie a tutti. 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 Dove sta filmando. Grazie a tutti. 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 Buonissimi. Buonissimi. Buonissime. Buonissimi. Buonissimi da理 bianco. Nell'insalata di pomodoro abbiamo aggiunto anche il melone di puglia e le friselle che queste a mangiarle così sono molto dure. invece si ammorbidiscono con il limone, la salsa di pomodoro, il melone e qua diventa praticamente, vedi? Queste qua si ammorbidiscono, si prendono la salsa di pomodoro si ammorbidiscono bene bene, gli abbiamo aggiunto l'olio che viene fuori una cosa da spettacolo in più abbiamo la burrata e le treccine ieri era il periodo di stracciatella, oggi burrata no, io filmo, il dadi sono pronto grazie a tutti 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 non potete entrare qua? no 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 mamma mia qua c'è il mercato ma cosa faccio? se oramai sono qua a volte si trova a volte, proprio a volte a volte guardate un parcheggio dove è? non lo vedi non è visibro no no niente vediamo di metterla qui in 3.000 qualcosa così è l'unica a meno che guarda qua insomma che questo qua dopo non potrà uscire come non va avanti? eh? la cazzo qui non può quello loro la smalda qui si tiene voglia mascherino anche la niente non c'è neanche lì il parcheggio andiamo da un'altra parte ma questo parcheggia da qualche parte eh? ma questo parcheggia da qualche la non c'era la c'era tutto il mercato leo ma come nella strada c'era tantissimo non puoi parcheggiare quello se la prende con calma ti guardo la macchina alla fine qua ma io guarda per il momento la metterei qua e siamo lì alla pizzeria da Michele non c'è la prima probabilmente questi sono take away è già aperta eh eh looks like pizzeria da Michele abbiamo parcheggiato di fronte che e ah 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 ok ok ah 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 Ora che trafico Ah se l'ha fermato adesso Ma perché dice di girare indietro? Guarda che scritta Fuck love Non dirlo magari Non è per il ladito, per l'audito Head south, then turn left Grazie 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 Grazie